Oh, funziona, incredibile. Ok, siete stanchi tutti. Farò del mio meglio per svegliarvi. Questo è il piano di oggi. Quindi, volevo iniziare però prima con un flashback. Allora, come ho detto prima, questo è il primo articolo fatto con Paolo. Paolo, 94, Giomi Padovani, vedete l'affiliazione, all'epoca lavoravo a Tor Vergata e da lì abbiamo fatto una cinquantina di articoli su questo argomento che si chiamano Blazers, di cui vi parlerò fra un attimo. E poi questo articolo, vent'anni dopo, con Elisa Resconi, che purtroppo non può essere qui, e lì è iniziato il lavoro sui neutrini, di cui vi parlerò oggi. Quindi, volevo iniziare con un esperimento mentale, così lavorate un po' anche voi. Pensate alla cosa più leggera che vi viene in mente. Ok? Vi lascio qualche secondo. La più leggera che vi viene in mente. eccoci qua. Vabbè, la piuma, piuma di gallina. Peso stimato 10 millesimi di grammo. Vabbè, è leggera, ma si può farne meglio. Passiamo a cose un po' più piccole e un po', diciamo, legate alla fisica. Un protone. Quanto pesa un protone? Pesa 0, seguito da 23 zeri, 1,7. Quindi in notazione scientifica ne diciamo 1,7 per 10 alla meno 24 grammi. Quindi è un numero piccolino, diciamo, rispetto alla piuma. Sono vari, vari miliardi di miliardi di volte più leggero. Possiamo far di meglio. L'elettrone, che neanche faccio vedere, pesa circa mille volte di meno del protone. Quindi qua stiamo arrivando a 0, seguito da 27 zeri e un 9, che noi scriviamo 9 per 10 alla meno 28. Ebbene, i neutrini di cui parlerò oggi hanno una massa stimata, perché non è chiaro quanto siano pesanti, circa un milionesimo di volte dell'elettrone, che è già un millesimo di volte più leggero del protone. E questo è il numero. 0, seguito da 33 zeri e un 2. Quindi una cosa abbastanza leggera. C'è la cosa più leggera dell'universo. Adesso. Altro esperimento. Parte opposta. Pensate a una cosa pesante. L'animale più pesante è il mondo. Facile. Mi do qualche secondo. Siamo da capo. Ok. La bannotta era azzurra, scusate. La bannotta era azzurra pesa al massimo 200 tonnellate, 20.000 kg. Abbastanza, però, se guardiamo a cose fatte dall'uomo, la torre Eiffel, come dicevo prima, sono 7.500 tonnellate di acciaio, ma il totale sono intorno alle 10.000 tonnellate, quindi 10 milioni di kg. È pesante, ma lasciamo la Terra e arriviamo al Sole, che il Sole non vuole arrivare. Il Sole pesa 2, seguito da 30 kg, che tra l'altro la massa del Sole è 333.000 volte la massa della Terra, che è un pianetino piccolissimo. Il Sole è una stella piccola, tra l'altro l'universo, però le scale stanno aumentando. Il mio titolo parla di neutrini e di buchi neri. Questa è l'immagine che ha fatto epoca. Signori, questa immagine è stata vista da, si stima, 3 miliardi di persone quando è uscita nell'aprile di quest'anno. L'immagine più vista della storia dell'umanità. 3 miliardi di persone. Questa è l'immagine dell'ombra di un buco nero. Grazie a Einstein, misurando le dimensioni di questo tondino nero, possiamo pesare il buco nero che c'è al centro e il risultato è questo. Uno seguito da 40 zeri. 10 alla 40 kg. La domanda a cui devo rispondere allora oggi è ma cosa c'entrano due entità così diverse? Abbiamo i neutrini, leggerissimi, i buchi neri pesantissimi, così pesanti che non arrivano e se faccio il rapporto delle masse ottengo questo numero. Un 1 seguito da 77 zeri. Siamo astronomi, vi assicuro che questo numero è astronomico anche per noi. 10 alla 77 è un numero incredibile. Il numero di secondi passati dal Big Bang è solamente 4,4 per 10 alla 17. Il numero di secondi dal Big Bang. Quindi questo qua è un numero incredibile. Quindi cosa c'entrano? Due entità che stanno agli estremi opposti dello spettro di massa dell'universo. Un neutrino e un buco nero. Quindi questa è la domanda a cui voglio rispondere con questa presentazione. E per farlo dobbiamo capire una cosa che è fondamentale per i colleghi qui, ma magari non per il pubblico, è tutta questione di fisica. L'universo è regolato dalle leggi della fisica. Il sole segue le leggi della fisica. Guidare una Ferrari, guidare l'auto, segue le leggi della fisica. Giocare a tennis. Fisica. E la fisica ha un linguaggio particolare. La fisica usa la matematica. L'universo ci parla con le equazioni. E Galileo l'ha capito 400 anni fa. Quindi, se io parlassi oggi a dei colleghi, e questa è una pagina del mio articolo, userei grafici e userei equazioni. Userei anche l'inglese, ma questo è un altro discorso. Quindi oggi devo tradurre dall'inglese all'italiano e poi devo tradurre dal linguaggio della fisica a un linguaggio di tutti i giorni. Che vi assicuro, come dicevo prima, non è banale. Perché noi parliamo questo linguaggio. E quindi devo spiegare a persone di voi che hanno altre specializzazioni diverse dalla mia, quello che faccio e quello che voglio fare oggi. Dandovi però dei numeri, come ho già fatto. perché voglio che siate gonsci delle scale di energia, di distanze, di tempi che sono coinvolti in questi fenomeni. Quindi iniziamo dalla fine. Questa è la copertina di Science, che è una delle riviste scientifiche più particiose del mondo, che nel luglio scorso ha pubblicato questo articolo, in cui si faceva una connessione tra i neutrini e un certo blazer che ha a che fare con i buchi neri. Voglio spiegarvi oggi anche non solo l'importanza, ma anche come siamo arrivati a questa scoperta. Perché questo non si legge mai nei giornali. Fare l'astronome è come fare il detective. Abbiamo vari indizi da mettere assieme e poi dopo cinque, sei anni magari, si arriva al risultato. E questo anche è bello, di capire come si arriva a scoprire certe cose. Questa copertina ha fatto il giro del mondo, è stata riportata da tantissimi siti web, è arrivata anche in Italia il Corriere della Sera, mi ha intervistato l'INAF con questo titolo buffo, chi ha sparato il neutrino. Prima di arrivare alla scoperta, voglio prima dirvi però cosa sono questi neutrini, perché sono così lontani dal nostro quotidiano che richiedono un'applicazione dettagliata, secondo me. Tanto cosa non sono? Questo è un atomo di Elio, che ha al centro due protoni, carica positiva, due neutroni, neutri, e attorno due elettroni che si muovono in una nuvoletta più o meno strana, non sa bene dove siano. I neutrini non c'entrano nulla con queste particelle, sono leggerissime, come detto prima, quindi una massa stimata di questo valore, e passano dappertutto. Ogni secondo il nostro corpo è attraversato da circa 100 mila miliardi di neutrini. 100 mila miliardi, 200 mila miliardi, e noi non ci accorgiamo neanche. Ci passano attraverso, completamente. E la cosa che dico sempre quando faccio i miei congressi, e lo dico agli stranieri, i neutrini sono italiani. Il nome neutrino fu inventato qui a Roma, a Via Panisperna, questo sono i ragazzi di Via Panisperna. Amaldi ha inventato il nome, poi Fermi l'ha pubblicizzato. Quindi i neutrini sono italiani, anzi sono pure romani. E questo è perfetto per oggi. Preparando la conferenza di Ferrara, dove Cristina mi ha conosciuto, mi sono però chiesto ma veramente attraversano tutto? Quindi ho fatto questo calcolo, la fisica usa la matematica, ho chiesto ai miei colleghi di fisica, ma mi fate calcolare veramente i neutrini, cosa devono fare per fermarsi? Il calcolo è presto fatto. Immaginate di avere un tubo pieno d'acqua, questo è l'acquedotto di Los Angeles, l'ho preso dalla web, di sparare uno di questi neutrini che si attraversano in continuazione nel tubo d'acqua e calcolare con la fisica Quanto va avanti il neutrino prima di fermarsi? La risposta è 500 parsec. Il parsec è la distanza tipica tra una stella e l'altra, 30.000 miliardi di chilometri, 206.265 volte la distanza Terra-Sole. Quindi il neutrino passa veramente, non è che passi dappertutto, però prima di fermarsi deve interagire con un sacco di atomi di acqua. A questo punto la domanda è ovvia, ma se sono leggeri, passano attraverso tutto, ma come caspita li abbiamo scoperti? La risposta è sempre quella, grazie alle leggi della fisica. E qua c'entra un po' l'alchimia. Gli alchimisti volevano trasmutare elementi poco nobili, tipo il piombo in oro. In natura le trasmutazioni succedono in continuazione. Questo qua è il carbonio 14, che voi mai conoscete perché viene usato per datare i materiali organici. In natura è instabile e decade naturalmente in azoto 14, un elemento che diventa un altro elemento completamente diverso. Così facendo emette una particella beta o un elettrone e questo qua si chiama decadimento beta. Negli anni 30 Wolfgang Pauli, un fisico tedesco, notò una cosa strana. Se uno misura l'energia del sistema prima del decadimento e dopo, non tornavano i conti. Dopo c'era meno energia del prima. Immaginate di giocare a biliardo, colpire con forza una palla che si sposta, colpisce un'altra palla uguale e la seconda palla si muove a malapena. Un fisico dice che deve esistere una palla invisibile che si porta via il grosso dell'energia. Non c'è altra spiegazione. L'energia deve conservarsi. Pauli disse la stessa cosa. Deve esistere una particella neutra, che non vediamo, che si porta via un po' di energia. All'epoca si conoscevano il protone e l'elettrone. Come chiama un fisico una particella neutra? La chiama neutrone, ovviamente, perché è neutra. Piccolo problema, che negli stessi anni Chadwick in Inghilterra aveva scoperto che c'era una particella neutra nel nucleo, che chiamò neutrone, che però pesava tantissimo, quasi come un protone. Quindi negli anni 30 avevamo due neutroni, uno grande e uno piccolo. A quel punto arriva Miles, gli dice, vabbè, uno è neutrone e l'altro è neutrino. Il nome rimase e, ripeto, fu pubblicizzato poi da Fermi. Quindi scoperta, intuita negli anni 30, grazie alla fisica, ci vogliono 26 anni per rilevarla grazie ai reattori nucleari. Questo science, ancora, il pepe della scoperta. Questi americani misero tanti protoni vicino al reattore e, grazie al flusso elevatissimo di neutrini, ne rilevarono alcuni. Quindi, notate qui, chi citano? Paoli, per l'intuizione, e Fermi. Purtroppo Fermi all'epoca era morto da due anni, quindi non poteva assistere alla scoperta. Ma per i fisici era ovvio, i neutrini esistevano. Mancava solo la prova sperimentale, che arrivò dopo 26 anni, nel 1956. Allora, questi 100.000 miliardi di neutrini al secondo, ma da dove arrivano, che si attraversano in continuazione? Arrivano dal Sole. Il Sole è una gigantesca centrale nucleare a fusione. Nel Sole, in continuazione, 4 protoni si fondono, diventano un atomo di idrogeno, di elio e producono energia. Per essere più precisi, ogni secondo il Sole brucia 600 milioni di tonnellate di idrogeno in 596 milioni di tonnellate di elio. Mancano 4 tonnellate, lo 0,7%. Perché questa differenza? Perché 4 atomi di idrogeno pesano leggermente meno di un atomo di elio. La differenza in massa, grazie alla famosissima equazione E uguale mc quadro, va in energia. Quindi è grazie a E uguale mc quadro che oggi siamo qua. Perché il Sole produce energia, fa crescere le piante, animali, ne mangiamo e così via. Quindi E uguale mc quadro ci permette di essere qua oggi. La stessa reazione, oltre a produrre energia, e francamente come dicevo fino a 5 anni fa, la cosa non mi interessava, produce anche due neutrini. Quindi i 100 mila miliardi di neutrini al secondo che ci attraversano vengono dal Sole. Perché nel Sole avvengono tantissime reazioni di questo tipo al secondo. Il filmino. C'è un'altra sorgente di neutrini nell'universo e sono le supernove. Le supernove sono delle stelle massicce che, verso la fine della loro vita, esplodono e espellono il materiale di cui sono composte nell'universo, dando origine a queste stupende strutture che si chiamano resti di supernova. Ebbene, nell'87 successe una cosa straordinaria. Io ero dottorando a Padova e esplose la supernova più vicina a noi dall'invenzione del telescopio. 400 anni. In una galassia vicina a noi, la Nubi di Magellano. Questa è la supernova prima e dopo l'esplosione. Qua vedete un'altra immagine più bella. Eccola lì. Bene. Alcune ore prima dell'arrivo della luce sulla Terra vennero misurati alcuni neutrini dalla supernova. Perché? Perché quando la supernova esplode il nucleo si contrae e i protoni e gli elettroni, che prima erano liberi, si fondono, vengono schiacciati a morte e producono un neutrone e un neutrino. E quindi la supernova produce anche lei i neutrini. Se uno calcola tutte le supernove della galassia e dell'universo, producono solamente 50.000 neutrini al secondo che ci attraversano, rispetto ai 100.000 miliardi del Sole. Perché il Sole è più vicino e poi le supernove sono un evento molto raro. Quindi ai 100.000 miliardi arrivano giunti anche questi 50.000 neutrini che arrivano dalla supernova. Fino a qualche anno fa si conoscevano due sorgenti di neutrini nell'universo. Ripeto, due. Il Sole e la supernova 87A. Per farvi capire quanto ridicolo è questo numero, a occhio nudo si vedono circa 10.000 stelle e conosciamo catalogate circa 2 miliardi di stelle della nostra galassia e conosciamo milioni di galassie dell'universo. Ripeto, fino a qualche anno fa conoscevamo due sorgenti di neutrini. Il Sole, scoperto nel 68, e la supernova nel 87. Tutto questo è cambiato grazie ad Ice Cube. Ice Cube è il più grande rivelatore di neutrini al mondo. Si trova al Polo Sud. Qui non lo vedete perché Ice Cube è sottoterra. È stato costruito durante sette stati sparando getti di acqua bollente nel ghiaccio e calando questi liberatori fino a circa 3.000 metri sotto il ghiaccio. Allora, quello che Ice Cube fa, altro filmino, grazie, non vede i neutrini. Vede l'effetto dei neutrini quando interagiscono con i protoni del ghiaccio. I neutrini producono particelle che decadono, producono altre particelle, producono luce che viene rivelata dagli rivelatori di Ice Cube. Sulla base di come i rivelatori si illuminano sappiamo la direzione dei neutrini e quanta energia hanno. Negli ultimi anni Ice Cube ha rivelato 150 neutrini. Ne passano attraverso Ice Cube miliardi di miliardi. Però, come dicevo prima, pochi rimangono intrappolati. È molto difficile da catturare. Allora vi chiederete adesso, beh, allora siamo passati da avere due sorgenti di neutrini a averne 152. Purtroppo no. E questo è il problema. Che la posizione dei neutrini non è ben determinata. Se io prendo un telescopio e vado a cercare all'interno dell'area da cui arriva il neutrino, da dove può arrivare, mi trovo questa situazione. Posso avere anche 10.000 sorgenti. Non so da quali di questi 10.000 arriva il neutrino. Ho stelle e ho galassie. E qui arriva il lavoro dell'astronomo. Mettere assieme tutti gli indizi che abbiamo. Indizio numero uno ha a che fare con questa foto, che è una foto di quelle che fate anche voi con i telefonini a 360 gradi. Questo edificio è lo stesso di quest'altro. Quindi è stata fatta girandosi attorno. Questa è un'immagine della galassia fatta con la stessa tecnica. Quindi questa parte della galassia è questa. Abbiamo messo assieme tutte le foto della galassia e questa è l'immagine della galassia vista da noi. Quindi abbiamo il centro della galassia e il disco della galassia. Se adesso io faccio vedere un'immagine con le posizioni dei neutrini di Ice Cube, cosa notate? Niente. Sono dappertutto. Se venissero dalla galassia, dovrebbero essere su un piccolo dischetto concentrato sul piano della galassia. Invece no. Quindi indizio numero uno. La maggior parte dei neutrini di Ice Cube non provengono dalla galassia, ma provengono da altre galassie. Piccolo problema. Abbiamo due trilioni di galassie conosciute nell'universo. Due mila miliardi di galassie. Come faccio a scovare quelle che emettono i neutrini. A questo punto una piccola parentesi sulle energie dei neutrini che mi richiede di spiegarvi un attimo qualcosa sullo spettro magnetico. Come sapete il nostro rivelatore astronomico, cioè il nostro occhio, è molto limitato. Vede una piccolissima parte dello spettro magnetico, che abbiamo il visibile, che va dal rosso al violetto. Perché? Perché siamo evoluti... Tommaso? Help! Vicino a una stella, il Sole, che emette il grosso della luce in quella banda. Se il Sole avesse emesso il grosso della banda radio avremmo dei piccoli radiotelescopi al posto dell'occhio. No. Non interessano di vedere la banda radio, perché non ce n'è in giro. Vediamo la banda visibile. Però lo spettro atomagnetico copre un range vastissimo. Si va dal radio, microonde, infrarosso, il visibile, ultravioletto, X e gamma. Quindi un range veramente elevatissimo, di cui noi possiamo vedere una parte piccolissima con l'occhio. ad ogni banda elettromagnetica corrisponde un'energia diversa. Nel senso che più si va a destra, più aumenta l'energia della luce che ci arriva addosso. Le unità sono irrilevanti. userò l'elettronvolt. Non importa. Tra l'altro volt deriva da volta, in alto italiano. L'energia della luce che vediamo noi va intorno a un elettronvolt. Nella banda X si parla di mille elettronvolt o kilo elettronvolt. Avete tutti i computer telefonini, quindi conoscete bytes, kilobytes, mille. Megabytes, un milione. Gigabytes, un miliardo. Terabytes, mille miliardi. Uguale qui. Abbiamo i kilo elettronvolt nella banda X, che sono i raggi X, li usiamo per fare le radiografie. E poi abbiamo la banda gamma che copre la zona del MEV, GEV e TEV. Quindi un milione, un miliardo e mille miliardi di elettronvolt. Perché i raggi X e i raggi gamma fanno male a noi? Perché i legami delle molecole del nostro corpo, e qui l'Onorevole mi potrà correggere se sbaglio, hanno energie dell'ordine dell'elettronvolt. Quindi quando capita addosso a noi un raggio X o gamma, ci fa del male, rompe i legami molecolari del corpo e quindi può provocare cancro o cose simili. Per i neutrini mi servirà anche il PEV o il PET elettronvolt, che è uguale a mille tera elettronvolt, che è uguale a un milione di giga elettronvolt. Dice la 15 per i colleghi. Allora, gli neutrini che conosciamo hanno energie abbastanza diverse, legati al fatto che vengono prodotti in maniera diversa. Quelli che vengono dal Sole hanno energie intorno al massimo al MEV, un milione di elettronvolt. Perché? Perché la fisica mi dice che quando io fondo quattro protoni in un atomo di elio, i neutrini che ne escono hanno energie di questo tipo. Le energie dei neutrini della supernova sono intorno ai 10 mega elettronvolt. Le energie dei neutrini di Ice Cube, questo è il secondo indizio, arrivano dai 50 TEV fino ai 4 PEV. Ricordatevi, MEV, GEV, TEV, PEV. Un miliardo di volte maggiore energia di quella dei neutrini solari. Quindi il secondo indizio richiede Tommaso e la fisica. L'unico modo che conosciamo per produrre neutrini al PEV è questo, avere dei protoni di altissima energia che si scontrano con altri protoni o con luce e producono particelle che si chiamano misoni, che producono neutrini e la stessa reazione produce delle particelle, pi zeros, che producono raggi gamma. Quindi il messaggio è questo, una sorgente che produce neutrini che Ice Cube vede deve anche produrre raggi gamma. E questo ci facilita molto la vita perché sono molto poche le galassie che producono raggi gamma. Quindi chiudiamo la prima parte degli indizi. Abbiamo scoperto, abbiamo capito che le sorgenti dei neutrini visti da Ice Cube devono avere due caratteristiche fondamentali. La prima non possono essere la nostra galassia, devono venire da altre galassie. e la seconda da galassie che devono produrre raggi gamma. Quindi galassie che siano succedenti di raggi gamma. A questo punto la cosa è ovvia, noi andiamo a vedere il cielo gamma, che produce raggi gamma. E qua entra fermi ancora, un altro fermi. Questo è un satellite gamma della NASA con fortissima partecipazione italiana, dell'INAF e dell'ASI, lanciato dieci anni fa, e chiamato fermi in onore di fermi, che ha fatto questa immagine del cielo e la galassia in primo piano, visto nei raggi gamma. Se avessimo degli occhi che vedono il gamma, noi vedremmo il cielo in questo modo. Quindi qua vedete che abbiamo tantissime sorgenti gamma sul piano della galassia, però tutti questi puntini fuori sono altre sorgenti gamma. La maggior parte di queste sorgenti gamma sono degli oggetti strani che si chiamano blazers. Adesso vi spiego cos'è un blazer. Torniamo alle nostre 2.000 miliardi di galassie nell'universo. Pensiamo che praticamente ognuna di queste galassie abbia un buco nero al centro. Nella maggior parte dei casi il buco nero non fa assolutamente nulla. È lì e non si vede, perché è nero. Nell'1% dei casi, il buco nero ha del gas vicino che gli cade addosso. Cadendo, per leggi della fisica, il gas si riscalda e produce un sacco di luce. Il nucleo diventa attivo. Noi li chiamiamo nuclei galattici attivi. I QESA sono un esempio di questi nuclei galattici attivi. Quindi, un per cento dei casi delle galassie abbiamo il buco nero che fa qualcosa, emette radiazione. Nel 10% di questo 1% abbiamo un'altra cosa. Abbiamo dei getti di materiale che escono, vedete, arrivano a distanze enormi, in cui alcune particelle vengono accelerate a velocità vicine a quella della luce, 300.000 km al secondo. Quando questo oggetto punta verso di noi, l'oggetto è un BESA. Quindi, galassie non diverso, tutto quel buco nero. L'1% il buco nero è attivo. Il 10% dell'1% c'è un getto. Quando un getto spara verso di noi è un BESA. Facendo un po' di calcoli, viene fuori che meno di una galassia su 100.000 ha un BESA dal centro, perché le caratteristiche necessarie sono molto rare. Quindi è uno su 100.000 che ha un BESA che ci punta il getto verso di noi. Quindi abbiamo scoperto che la maggior parte delle galassie che mettono raggi gamma, che sono quelli che ci servono per avere i neutrini, sono BESA. E quindi arriviamo ai buchi neri. Quanto pesano i buchi neri a come dicevo prima, la massa del Sole, che è, come dicevo prima, 2x30 kg. Noi parliamo di 10 masse solari, 100 masse solari. Ebbene, il buco nero al centro dei BESA ha una massa intorno al miliardo di masse solari. Come dicevo prima, circa 10x40 kg. Quindi questi erano gli indizi che avevamo fino a qualche anno fa. Con Paolo e altri, mettendo assieme questi e altri indizi, siamo arrivati a proporre che almeno alcuni dei neutrini di Ice Cube dovevano venire dai BESA. Abbiamo fatto una serie di articoli. C'erano altri indizi e tutti puntavano nella stessa direzione. Però ci mancava, la conferma, come Paoli con i neutrini. Bisognava vedere, almeno associare almeno un neutrino a un BESA. E questo è successo l'anno scorso. Cosa è successo? Che a settembre 2017 Ice Cube ha mandato in giro questa circolare dicendo alla comunità astronomica abbiamo scoperto c'è un neutrino, lo fanno irregolarmente, c'è un neutrino che viene in una certa direzione, con una certa energia. Se avete telescopi, guardate quella zona lì e vediamo cosa viene fuori. Fermi e Magic, che fa anche lui gamma ma da terra, scoprirono che c'era qualcosa di strano in quella zona. C'era un blazer che stava sparando raggi gamma molto al di sopra della media. Era in outburst, come diciamo noi, era in un flare, stava sparando raggi gamma tantissimo. E viene fuori che questo blazer era vicinissimo, questo era il neutrino, la posizione del neutrino, questo è il blazer. Quindi per la prima volta si è potuto associare un neutrino di Ice Cube con una controparte astronomica che era il blazer che io, Paolo e altri avevamo predetto doveva essere. Però ripeto, ci mancava la prova e questa è stata la prova. Non solo. Grazie a questa scoperta, tra l'altro l'energia del neutrino era di 290 TeV. Ricordatevi, elettron volt, kiloletron volt, mega elettron volt, giga elettron volt, terra elettron volt. Quindi siamo quasi vicini al PEV, quindi è un'energia elevatissima. Grazie a questa associazione Ice Cube è andato a cercare nei loro archivi e hanno trovato che a fine 2015 dalla stessa zona erano arrivati 13 neutrini in 4 mesi. Nessuno se ne era accorto per vari motivi. Quindi abbiamo due eventi, un neutrino nel 2017 e 13 neutrini nel 2014. E tutto questo, più altre cose, puntano al fatto che questo blazer deve essere un associante di neutrini. Tra l'altro questo blazer, parliamo di astronomia, è qui la posizione vicino all'aurione. Questa è orione vicino al braccio di erone, che si vede benissimo d'inverno anche da queste latitudini. E a questo punto veniamo alla domanda fondamentale. Come fa un buco nero che pesa 10,40 kg a sparare una particella che ne pesa 2 per 10,34? E la fisica ancora ci viene in aiuto. Tommaso c'è un'altra... No, dietro c'è il filmino. Questa è un'immagine, un filmino di quello che pensiamo succeda vicino a un buco nero. Abbiamo materiali che cade sul buco nero. Emette radiazione. Grazie a campi magnetici e al fatto che il buco nero ruota, vengono emessi questi getti che accelerano i protoni alle energie necessarie, perché questi protoni si scontrino con la luce che c'è attorno al buco nero e producono neutrini. Solo il buco nero, così grande, riesce a accelerare le particelle a energie tale da produrre i neutrini che cercavamo. E questo chiude il cerchio del perché i neutrini erano associati con i buco nero. A questo punto, quando vado a fare le mie presentazioni, alle conferenze, davanti a colleghi che non lavorano in questo campo, devo spiegare perché è importante. Perché uno potrebbe dire, vabbè, io lavoro sui pianeti, a me cosa interessa di queste cose? Devo dare quello che dico io, la big picture. E ci sono vari motivi di cui è importante. Il primo è ovvio. Avevamo due sorgenti di neutrini, abbiamo tre. Un aumento del 50% in un colpo solo. Però le prime due erano stellari. Il Sole, che è la nostra stella, e una supernova che è in una galassia a 50 kiloparsec. Questo oggetto è a 4 miliardi di anni luce. Quindi è tutta un'altra cosa e, come dicevo, tutta un'altra fisica. Questo è il punto fondamentale. Torniamo allo spettro magnetico. Da Terra e dallo spazio vediamo tutto questo spettro. Abbiamo la radio infrarosso, con l'ESO vediamo l'ottico infrarosso, con l'ALMA vediamo le microonde, con l'ILT vedremo in questa banda, con telescopi gamma arriviamo qui. Con i neutrini arriviamo ad essere energie al PEV, che sono un milione di miliardi di volte maggiori di quello che vediamo con l'ESO o con i nostri occhi. Ma c'è di più. L'unico modo che abbiamo per arrivare a queste energie sono i neutrini. Il cielo, visto alle energie di una luce che potrebbe avere le energie dei neutrini, è questo. È nero. Nessuna luce, nessun fotone con l'energia del PEV arriva e mai arriverà a noi. Perché? Perché la fisica ci dice che questi fotoni, viaggiando nello spazio, si scontrano con altri fotoni di bande più basse, con il tavoletto ottico infrarosso, vengono distrutti. Quindi l'unico modo che abbiamo per studiare queste energie sono i neutrini, perché la luce che arriva dal buco nero a queste energie non arriverà mai da noi, viene distrutta lungo la strada. E questo è il punto numero due. E ce ne sono altre, vi chiudo con questo punto e poi ho quasi finito. Questo è Victor Hess, un tedesco che cento anni fa, circa, scoprì i raggi cosmici. Lui prendeva questo pallone, andava fino a 5.000 metri di altezza rischiando la vita e scoprì che si erano delle cose strane, dei raggi di altissima energia. Dopo cento anni siamo ancora lì a chiederci da dove arrivano. Dopo cento anni. Allora vi ricordate siamo sempre lì, GEV, TEV, PEV. Devo introdurre un'altra unità che si chiama l'hexa electron volt che è pari a mille PEV. 10 alla 18 electron volt, uno seguito da 18 zeri. I raggi cosmici sono le entità più energetiche dell'universo. arrivano fino a circa, Tommaso, 320 hexa electron volt. Quindi qua abbiamo il CERN, tra l'altro, che arriva a accelerare le particelle fino a 14 tera electron volt. Non ce la fa il CERN a battere l'universo. I telescopi gamma che arrivano intorno ai 300 TEV, Ice Cube, 4 PEV e questi raggi cosmici che arrivano a 320 hexa electron volt. Da dove arrivano? Non si sa. Perché? Perché i raggi cosmici sono particelle cariche, protoni o atomi di nuclei. Una particella carica che si muove in un campo magnetico, e il campo magnetico c'è nella galassia e fuori, viene deviata. Quindi la particella che arriva da un certa direzione, non so da dove è partita, perché vengono deviate dal campo magnetico, quindi non riesco a risalire all'origine. Bene, grazie alla scoperta di Ice Cube, sappiamo adesso che abbiamo trovato una sorgente di raggi cosmici che ha dei protoni in questa banda. Non arrivano all'exa electron volt, però intorno a 100 PEV. Perché? Perché la fisica mi dice che per produrre questi neutrini servono protoni di alta energia. Quindi, per la prima volta nella storia dopo 100 anni, abbiamo una sorgente sicura di raggi cosmici. Ho finito. Quindi, riassumendo, per migliaia di anni l'uomo guardava il cielo a occhio nudo usando osservatori, diciamo, preistorici, primitivi per noi, ma tipo Stonehenge. Poi arriva Galileo. Galileo ha inventato, a parte essere il primo essere umano che guarda il cielo, ma ha inventato la scienza moderna. Lo dicono, non diciamo noi, lo dicono tutti gli altri. Galileo rivoluziona tutto. Guarda, scopre le fasi di Venere, vede che la Luna è come la Terra, riflette la luce, scopre i pianeti di Giove. Telescopi sempre più grandi da Terra e dallo spazio. Siamo arrivati all'inizio di un'altra era, perché i fotoni, la luce, è arrivata al limite. Abbiamo un'altra finestra, che è data dai neutrini di Ice Cube, che punta su un universo che è fatto di buchi neri massicci. Quindi, mi piace adesso fare il riassunto, vi do i punti fondamentali da ricordare. Primo punto, i neutrini sono dappertutto, ma veramente dappertutto, sono sfuggenti, ma sono anche romani, italiani e romani. Quindi questo è da ricordare sempre. Secondo punto, c'erano vari indizi, abbiamo lavorato tantissimo con Paolo e altri, e avevamo detto, secondo noi alcuni blazer devono emettere neutrini. L'universo ha collaborato, ci ha mandato un neutrino d'oro, che è stato associato ai raggi gamma, e quindi adesso siamo sicuri che almeno un blazer emette neutrini. Come dicevo prima, i neutrini ci danno una finestra unica, perché la luce a queste energie non potrà mai arrivare da noi. Quindi è l'unico modo che abbiamo qui i neutrini per andare a studiare gli eventi di altissima energia. Abbiamo anche identificato la prima sorgente di raggi comici, che era un problema aperto da cento anni, e alla fine abbiamo anche aumentato del 50% le sorgenti di neutrini anote. E qui ho finito. Grazie. 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 Grazie.